Lo strabismo, come è noto, è una condizione in cui gli occhi non sono in ortoforia, ovvero non sono allineati e paralleli tra di loro. È una condizione che può essere sempre presente o presente in particolare in alcune condizioni di sguardo, per esempio guardando verso l'alto, verso il basso o guardando per vicino, eccetera. Lo strabismo è curabile a tutte le età, questa è una delle domande che maggiormente ci viene fatta dai nostri pazienti. La cura dello strabismo in età pediatrica può avvalersi semplicemente degli occhiali, anzi è proprio in questa fascia di età che è molto importante insistere con l'oculista, con visite oculistiche, proprio perché siamo ancora in possibilità di correggere definitivamente il bambino. Mi spiego meglio. È noto che nei primi 5-6 anni di vita si forma il sistema visivo, come i bambini imparano a parlare, imparano a camminare, imparano anche a vedere. Quindi eventuali strabismi presenti in questa giovane età possono essere corretti con gli occhiali, facendo in modo che il cervello poi uno impari a vedere meglio e due facilmente impari anche a muovere meglio gli occhi, evitando quindi strabismi persistenti in età adulta. In età adulta, d'altra parte, per qualsiasi motivo può essere presente uno strabismo, spesso per uno strabismo anche non adeguatamente corretto in giovane età, ma non solo. In questi casi è comunque sempre possibile correggere lo strabismo. Si tratta in questi casi di correzioni chirurgiche, sono interventi che vengono fatti in anestesia perché il paziente deve essere addormentato. È un intervento piuttosto veloce, piuttosto semplice, ma richiede che il paziente sia sedato e consistono nell'andare a riposizionare i muscoli che muovono l'occhio. Ogni occhio è mosso da 6 muscoli, si chiamano muscoli estrinseci oculari che lo vanno a spostare sopra, sotto, destra, sinistra e lo fanno anche ruotare per mantenerlo sul bersaglio visivo. Quindi l'opportuna modifica di questi muscoli consente di rilineare i due occhi per un perfetto risultato estetico.